Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Steffi si risveglierà dal coma, ma con un'amnesia. Infatti, Sheila potrà continuare a vagare per le vie di Los Angeles indisturbata. La giovane Forrester non avrà ricordi del conflitto in cui Finn muore. Non solo, sembra che addirittura la stilista non ricorderà quanto accaduto negli ultimi mesi. La situazione destabilizzerà non poco la coppia composta da Liam e Hope. Il motivo? Lo Spencer non saprà come affrontare l'amnesia di Steffi, in quanto quest'ultima ricorderà che sono ancora sposati. Per chi non avesse seguito le vicende delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, Finn muore per salvare Steffi. La figlia di Ridge affronta Sheila dopo aver scoperto il suo piano contro Brooke, nel vicolo del giardino. Qui minaccia apertamente la suocera, facendole presente che non farà mai parte della sua vita e di quella di Finn e Ace. Furiosa, la Carter estrae la sua pistola e la punta contro la Forrester. Finn arriva in tempo per posizionarsi tra loro e il colpo d'arma da fuoco raggiunge il suo intestino. Dopodiché, Sheila spara anche a Steffi. Non finisce qui. Perché la Carter fa in modo che il tutto passi come una rapina finita male e poi fugge. A questo punto, è di cona trovare la coppia priva di sensi nel vicolo. Sharp, che non immagina minimamente l'accaduto, chiama subito i soccorsi. Chiede a entrambi di reagire, ma i medici che arrivano sul posto dichiarano subito morto Finn. Per quanto riguarda Steffi, finisce in coma. Tutti sono al suo fianco in ospedale, anche Liam e Hope. E mentre Taylor si avvicina a Sheila, salvandola, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffi si sveglierà dal coma. La figlia di Ridge inizierà il suo viaggio verso la piena guarigione. Ma attenzione perché la memoria della Forrester sarà abbastanza incasinata. Le anticipazioni riportano che Steffi non ricorderà il conflitto con Sheila. Questo solleverà l'animo della Carter, sebbene il senso di colpa per aver ucciso suo figlio continuerà a devastarla. I problemi di memoria della Forrester andranno oltre tutto questo. Non solo non riuscirà a identificare Sheila come la colpevole di quanto accaduto, ma ci sarà un'altra svolta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.